Buon pomeriggio, Giorgio. Fai la spesa? Buon pomeriggio, Elena. Sì, il nostro frigo è vuoto. Anche tu fai la spesa? Sì, anche io faccio la spesa. Che cosa compri? Compro pomodori, lattuga, frutta e zucchero, una bottiglia di latte. E carne di vitello. Io compro patate e carne di pollo. Mmm, pollo con patate per cena. Ti auguro una buona serata. Buona serata anche a te. Buona serata. Grazie a tutti.